faccio il quarto esercizio del compito numero uno di termodinamica allora scelgo questo esercizio costruisco il diagramma pv pressione volume ok e sto in un punto iniziale che lo chiamo appunto a quindi sono dati dati n uguale a due molli gas monoatomico gas reale gas ridale gas monoatomico gas perfetto mono atomico quindi un gas perfetto gas perfetto benissimo e nel facciamo la temperatura iniziale temperatura t a e data per esempio 20 gradi centigradi mentre il volume va per esempio 20 litri anche questo 20 litri abbiamo due modi di gas perfetto monoatomico e quindi ok allora il gas subisce due trasformazioni due trasformazioni dal punto a va al punto b una trasformazione isotermica isotermica quindi facciamo l'isoterma qua dal punto a fino al punto b finché raddoppia il volume per esempio in cui vb è dato uguale 2 va benissimo poi dopo eseguiamo una compressione bc una compressione adiabatica fino alla pressione iniziale pa fino a pc uguale a pa e quindi una pressione una trasformazione adiabatica l'adiabatica una pendenza più grande e torna nella stessa valore di pressione di quella iniziale pc uguale a pa le domande che facciamo sono trovare calcolare i parametri del gas pressione volume temperatura p v t punto in relativo in tutti gli stati in nello stato a iniziale nello stato intermedio b e nello stato c dobbiamo calcolare c dobbiamo calcolare i parametri allora comincio a fare il calcolo e quindi scrivo qui per esempio li metto qui pressione volume e temperatura li metto qui metto lo stato a lo stato b e lo stato c benissimo nello stato a conosco la temperatura ta lo metto qua ta questo è dato conosco il volume va quindi è dato anche il volume va posso calcolare il valore della pressione conoscendo che si tratta del gas perfetto quindi visto che è un gas perfetto p v è uguale n per r per t l'equazione del gas perfetto in cui r è la costante del gas e nel numero di molli che sono due molli p v uguale n per t il gas era perfetto monatomico quindi posso scrivere anche il cv visto che è perfetto monatomico non è dato negli esercizi ma dobbiamo scrivere noi due terzi tre mezzi scusate tre mezzi r se mi serve anche cp cp sapete che è uguale a cv più r quindi tre mezzi più più uno quindi cinque mezzi r cinque mezzi per r mentre gamma la costante adiabatica cp fratto cv uguale a cinque mezzi r fratto tre mezzi r viene cinque terzi e quindi sono questi dati temperatura ta è data volume va è dato pv uguale nrt quindi p uguale nrt fratto v quindi la pressione pa di conseguenza viene nr per ta per ta fratto volume va dobbiamo aprire un po' di più questa cioè scriviamo v qui e scriviamo t qui la scriviamo un po' più allargata quindi qui v era era data la ta che era data e anche il volume va erano dati ok benissimo andiamo la prima trasformazione isotermica da a b quindi la temperatura rimane costante quindi la temperatura t nel b rimane la stessa quindi uguale a ta bene mentre il volume l'esercizio cioè è dato che il volume raddoppia quindi il volume vb diventa uguale al doppio del volume va quindi 2 va in cui va era dato l'ultimo parametro pb sempre dall'equazione del gas perfetto pv uguale nrt quindi nrt pb uguale nrtb batti b e ta tutto fratto vb ma vb è il doppio di va 2 va cioè questo l'abbiamo fatto dai calcoli cioè praticamente facciamo delle frecce questo era dato e questo era dato quindi dai calcoli abbiamo calcolato questo è la stessa cosa qui vb era dato e anche tb era dato l'ultimo parametro l'abbiamo calcolato in questo modo arriviamo al punto c è una diabatica quindi l'equazione arriva nella stessa pressione pa quindi la pressione in c è uguale a la pressione in a quindi uguale a pa quindi uguale nr ta fratto va e quindi è dato mentre non conosco il volume e la temperatura visto che ho più informazioni sulle pressioni applico l'equazione della diabatica della diabatica bc quindi bc è una diabatica e quindi l'equazione della diabatica bc per vc elevato a gamma uguale pb per vb elevato a gamma le pressioni ho informazioni ho pressione anche su vb e deve trovare il volume vc da qui quindi vc da qui vc elevato a gamma uguale pb su pc pb fratto pc per vb elevato a gamma e calcolo da qui il volume vc si vede ok vc uguale faccio elevato a 1 su gamma quindi per togliere vb quindi vb che moltiplica pb su pc elevato a 1 fratto gamma se faccio un po' i calcoli pb su pc ce l'ho qui pb su pc quindi ho nrta fratto 2 va fratto nrta fratto vanno via quindi pb su pc mi viene uguale a 1 mezzo comunque qui perché c'è un mezzo fratto 1 il resto si semplifica quindi pb su pc mi viene uguale a 1 mezzo quindi 1 su 2 elevato a gamma qui quindi vb fratto 2 elevato a gamma quindi vc viene vb non si legge perché esco fuori quindi dovevo riscrivere e quindi vc viene cancello un po' di cose adesso cancello queste queste parti qui cancello qui e quindi ricavo in questo modo ho ricavato vc uguale veniva vb quindi vb questa veniva una fratto 2 alla gamma quindi fratto 2 elevato a gamma questo è il vc benissimo e quindi abbiamo calcolato anche vc vc ce l'abbiamo qui lo riportiamo qui vc uguale vb fratto 2 elevato a gamma 2 elevato a gamma l'ultimo parametro tc dobbiamo fare con l'equazione del gas perfetto quindi tc uguale da qui pc vc fratto nr pc per vc fratto n per r lo calcolo qui accanto questa è la calcolata qui quindi tc uguale pc vc tc uguale pc per vc fratto n per r uguale sostituisco pc nr ta fratto v a nr ta fratto v a che moltiplica vc e vb fratto 2 alla gamma fratto 2 elevato a gamma tutto fratto n per r n per r pc per vc fratto n per r quindi va benissimo e quindi semplifico nr che va via qui nr va via con questo qua e quindi rimane vb fratto va che vb fratto va vb e 2 va quindi viene tc tc uguale facciamo così tc uguale vb fratto vb fratto vale 2 perché è il doppio quindi 2 fratto 2 elevato a gamma che moltiplica t a cioè tc viene uguale t a fratto 2 elevato a gamma meno 1 tc uguale t a fratto 2 elevato a gamma meno 1 oppure lo posso portare sopra scusate qui che c'era vc praticamente veniva vb fratto 2 elevato a gamma abbiamo detto qui l'abbiamo scritto cioè vc uguale a vb l'abbiamo scritto qui fratto 2 elevato a scusate 1 su gamma perché ho copiato male qui 2 elevato a 1 fratto gamma e quindi stiamo utenti quindi pc vc vc è 1 fratto 2 elevato a 1 su gamma perché c'era una contraddizione che non tornava e quindi vb su va è uguale a 2 2 fratto 1 2 elevato a 1 su gamma e quindi tc viene uguale facciamo 2 elevato a 1 meno 1 su gamma quindi 1 meno 1 fratto gamma che moltiplica ta se lo aggiustiamo ancora un altro pochino tc uguale 2 elevato gamma meno 1 cioè facciamo meno multiplo fratto gamma tutto che e moltiplica ta lo faccio con rosso questo così ho trovato anche la temperatura tc ci ho trovato tutti i parametri voglio praticamente cancellare tutto e scrivere i valori numerici così sostituisco i valori numerici quindi il valore vc l'ho scritto qui però vc era vb fratto 2 elevato a 1 su gamma perché ho copiato male qui 2 elevato a vb fratto 2 elevato a 1 fratto gamma ok in cui gamma era uguale a 5 terzi quindi vanno sostituite un po' i numeri per trovare i valori i valori ok benissimo allora che cancello qui per sostituire un po' i numeretti facciamo allora tc ce l'ho qua quindi lo sostituisco qui per tc quindi tc viene uguale 2 elevato a gamma meno 1 fratto gamma per ta quindi ce l'ho già qui e lo chiudo qua e quindi cancello tutto il resto così ho tutto qui e sostituisco i numeretti per mettere per sostituire i dati numerici intanto l'esercizio è finito cioè praticamente si chiedevano i parametri nello stato a b e c li abbiamo già trovati comunque semplicemente le sostituzioni numeriche adesso qui quindi sostituzione numerica se vogliamo scriverlo facciamo delle cose un po' approssimate quindi a lo stato a apro parentesi pressione p a n r per t a fratto va cerchiamo di farli n 2 che moltiplica r usiamo r 0,83 0,83 così uso litri atmosfere 0,82 anzi 82 per la temperatura t a che è 20 gradi in gradi kelvin 293 per 293 tutto fratto il volume va che è in litri perché ho usato litri e atmosfere quindi all'incirca questa pressione questa è la pressione questa è la pressione pressione all'incirca questo 2 diviso 20 qui è 10 viene 0,1 altro 0 facciamo che qui è circa 300 quindi per 3 qui verrà 0,8 per 3 sì circa 0,8 per 3 mi viene 2 molli in 20 litri sì 0,8 che moltiplica 3 3 per 8 è 24 circa 2,4 atmosfere 2,4 intanto quindi 2,4 2,5 vabbè uguale atmosfere questa è la pressione volume ce l'abbiamo il volume 20 litri 20 litri mentre la temperatura 20 gradi centigradi in gradi kelvin 293 cioè 20 più 273 kelvin quindi la pressione volume temperatura pressione volume e temperatura vediamo il punto B nel punto B la pressione è diminuita è diventata metà perché c'è fratto 2 quindi è facile quindi diviso 2 1,2 atmosfere circa 1,2 atmosfere il volume è raddoppiato 2 per 20 4,40 litri il volume mentre la temperatura è rimasta la stessa 293 kelvin nel punto C invece abbiamo la pressione in C e in A è lo stesso quindi 2,4 atmosfere 2,4 atmosfere mentre il volume in C e V fratto 2 elevato a 1 su gamma gamma era 5 terzi questo è 2 elevato alla 3 quinti 2 elevato alla 3 quinti ve la qui 2 elevato alla 3 quinti mettiamo un numero così un po' a caso è radice quinta di 8 è radice quinta di 8 per esempio 1,5 circa 1,5 alla quinta ci siamo quasi facciamo circa 1,5 quindi diviso V diviso 1,5 cioè 1,5 è 3 mezzi quindi moltipliciamo con 2 lo dividiamo con 3 40 per 2 80 diviso 3 voi potete fare i calcoli con la calcolatrice un po' più precisi 80 diviso 3 e sotto 30 litri facciamo 25 litri tanto per mettere un numero all'incirca qui 26 litri ho messo all'incirca se fate i calcoli super giù verrà quello la temperatura invece sarà 2 elevato a gamma meno 1 fratto gamma oppure 1 meno 1 su gamma facciamo meglio 1 su gamma è 3 quinti perché gamma era 5 terzi quindi 1 meno 3 quinti 1 meno 3 quinti sarà lo facciamo qui quindi 2 elevato a 1 meno 3 quinti per t a 5 meno 3 2 quindi 2 elevato a 2 quinti di a cioè praticamente cresce ma non tanto radice quinta di 4 praticamente radice quinta di 4 sarà tipo 1,3 diciamo qualcosa così 1,6 e quindi arriviamo all'incirca quindi circa 1,3 per tia all'incirca 1,3 lo voi potete fare con la calcolatrice 1,3 per tia quindi 1,3 per tia lo siamo un po' più sopra perché non si vede nel tavolo 1,3 per tia adesso si legge 1,3 per la temperatura tia che tia è 293 all'incirca 300 300 per 3 quindi altri 90 un po' di meno diciamo non 390 370 e qualcosa mettiamo circa 300 ho messo altri circa 375 K voi fate i valori precisi l'importante è che siete arrivati qui a ricavare i parametri quindi finisce questo questo esercizio giro un po' il tavolo finisce questo esercizio vi invito a iscrivervi nel canale youtube il mio nome è Vladimir Costuri anche il telefono 340 90 10 279 anche whatsapp e mi potete scrivere anche da facebook sempre con il nome Vladimir Costuri finisco qua ci vediamo adesso nell'altro nel compito numero 2 è Grazie.